Buongiorno, benvenuti a questa zuppa di porro in diretta dalla Francia. Sono iniziato le vacanze e farò delle zuppe, spero, un po' più brevi. Però devo dire che questa mattina, appena mi sono svegliato e ho visto dei giornali stampati, mi è venuto subito, come possiamo dire, un'intuizione, mettiamola così, su come noi siamo un paese morto. Comunque siamo morti noi come categoria giornalistica, proprio che camminano, non come diceva quel cretino di Grillo. Allora, siamo morti per questo motivo, questo è il Corriere della Sera, prima pagina del Corriere della Sera di oggi, va bene? Io voglio leggervi questa parte qua di cronaca, che ovviamente qua si legge male perché è al contrario. La prima parte di cronaca è, aperte virgolette, io, salva con lo spray al peperoncino, io salva con lo spray al peperoncino. Allora io dico, vabbè, ci sarà scritto da qualche altra parte, qualche cos'altro. Aggredita di notte a Milano sfugge alla violenza, punto. Poi identifica l'uomo e lo fa arrestare. Quindi sappiamo che salva, che ha usato il peperoncino, che avviene a Milano, che sfugge a una violenza sessuale e che identifica un uomo e lo fa arrestare. Queste sono tutte le informazioni che mi dà il Corriere della Sera in prima pagina. Poi c'è anche un pezzo, con una piccola fotina di quello che avviene, e c'è scritto Voleva volentarmi, mi sono salvata con lo spray al peperoncino, cosa che già aveva scritto sopra. Il drammatico racconto della giovane che a Milano, in stazione, ha messo in fuga l'aggressore. Porca puttana! Questi fanno titolo, sommario, foto, 5 righe di coso, non c'è scritto da nessuna parte che l'aggressione è un nigeriano che aveva precedenti per violenza sessuale e che era da 11 anni clandestino in Italia. Da 11 anni clandestino in Italia. Questa violenza sessuale, provata e tentata nel centro di Milano, secondo il giornalista, secondo i titolisti e secondo il Corriere della Sera, è del tutto ininfluente che sia stata fatta o tentata o perpetrata da un clandestino perché è politicamente scorretto, perché l'ordine giornalistici dice che noi non possiamo fare il titolo del giornale, che ve lo faccio leggere qua, che è molto più banale, lo leggete, al contrario, ve lo leggo io. Clandestino tenta lo stupro, lei lo ferma con lo spray. Questa è la notizia. Clandestino tenta lo stupro in Italia dal 2007, foto segnalato a Catania e a Caltanisetta, da clandestino in 11 anni un solo domicilio in provincia di Milano, dove da mesi risulta irreperibile, precedenti per violenza sessuale, furto e spaccio. È una richiesta di asilo rifiutata due volte. È l'identikit del nigeriano 31enne che qualche giorno fa nella stazione di Garibaldi di Milano ha tentato di stuprare una ragazza che l'ha messo in fuga con lo spray urticante. Un video lo incastra. Allora, chi è che sbaglia? Chi è che sbaglia, secondo voi? Secondo voi è questo giornale un giornale razzista e questo è un giornale giusto? Questo fa le fake news e questo dice le right news? Io penso che questa sia l'ipocrisia gigantesca, per cui questo è un paese, per cui altro secondo grande tema di giornata, oggi Fontana, ministro della famiglia, ha detto che la legge Mancino deve essere abolita. Poi ovviamente è subito stato ripreso, non fa parte del contratto di governo, dice Di Maio, anche lo stesso Salvini lo ha contestato, dicendo che è una buona idea ma non fa parte delle nostre attività di governo. La legge Mancino, come scrive benissimo oggi, farina sul libero, è una vergogna, come dicono quelli politicamente corretti. Perché è una vergogna? Ve lo dico senza neanche un sospiro, ve lo dico da liberale, lo dico da uomo che adora il primo emendamento americano. Io, buongiorno Rita, ho diritto anche ad odiare in un paese liberale, per il semplice motivo, ovviamente non a comportarmi di conseguenza, non a incentivare l'odio, non a, come possiamo dire, a far sì che ci siano dei comportamenti odiosi. Tutto questo è una violazione di una legge, ma il diritto a poter dire, per esempio, cosa che io non condivido minimamente, cosa che oggi scrive per esempio Farina, Farina dice, il diritto di dire che l'omosessualità è una malattia, che è una stronzata chiaramente, e anche Farina lo considera una stronzata, è un diritto che si deve avere, perché nella libera circolazione delle idee si può dire tutto, è il contrario di tutto, fa parte delle idee, non fa parte delle azioni, perché poi, soprattutto, chi è che decide cosa si può dire e cosa non si può dire? Vi faccio un esempio semplicissimo, che vi ricordo la legge Mancino, fu utilizzata contro Oriana Fallaci, per istigazione all'odo razziale, alla Fallaci, fu applicata la legge Mancino, allora, ne possiamo discutere? Possiamo discutere di questa legge liberticida? Possiamo farlo? Fu fatta forse in un momento particolare, ma la cosa straordinaria è che oggi, a difesa della legge Mancino, vi leggo che cosa dice Fiorenza Sarsanini sul Corriere della Sera, ve lo giuro, Corriere della Sera, lo stesso che si dimentica di dire, in prima pagina, che si parla di un clandestino ad aver provato lo stupro alla stazione Garibaldi di Milano, dice, ci sono due emergenze, allora, oltre all'emergenza, c'è l'emergenza fascismo in Italia, come abbiamo scoperto prima delle elezioni, ma c'è l'emergenza razzismo, e poi ci sono altre due emergenze che scopro oggi sul Corriere della Sera, ve le leggo, il tifo violento, e c'è come emergenza, però se uno fa una violenza allo stadio, prende e va in galera, c'è il DASPO, ci sono una serie di misure straordinarie, e l'altra, è gli scontri di piazza provocati da gruppi di estrema destra, questa è un'altra emergenza, gli scontri di piazza, e va bene, ma provocati da estremisti di centrodestra, di estrema destra, ma dove vive la Sarzanini? Vive dove non ha visto neanche una manifestazione dei No Global, dove ha visto le manifestazioni contro la TAV, contro la TAP, manifestazioni di non di estremisti, di padri di famiglie di sinistra, che corcano i poliziotti, che rompono i muretti a secco, ma dove cazzo vive? Dove vivono questi? Dove vivono? Che non possono scrivere che è stato un clandestino a provare uno stupro? La Sarzanini si sente sicura quando a Milano si trova in una, o a Milano, o a Brescia, o a Padova, per cercare due stazioni molto più insicure, dove sono stato recentemente, dove ti trovi circondata da persone che non sai da dove vengono, non sai cosa stanno facendo, non voglio parlare del colore della pelle, gente che non ha un lavoro, e che sta lì perché noi li abbiamo accolti, perché la Sarzanini ci ha detto il suo giornale che li dobbiamo accogliere, e lì ci mettiamo altro che lo spray dentro la borsetta, e l'emergenza è, ve la leggo, scontri di piazza provocati da gruppi di estrema destra, motivo per il quale si deve tenere la legge Mancino, io dico, veramente, veramente allucinante, altro tema allucinante, insomma, per dare un colpo alla cerchia, e l'altro alla botta, e beh, devo dire che c'ha ragione il giornale oggi, ma non solo il giornale, ciao Pietro, Pietro adesso si collega, ed è un consigliere ex di Forza Italia, mi sembra che non è più di Forza Italia, oggi sui giornali si parla di questo recupero che sta facendo Forza Italia, di gente dalla Lega che sarebbe andare a Forza Italia, questo secondo me vale come l'emergenza, diciamo, dei gruppi di centrodestra, di destra che fanno casino in piazza, io tutti questi consiglieri che dalla Lega, stiano andando, per l'estremismo della Lega, stiano andando a Forza Italia, non lo vedo, vedo molto purtroppo gente che dalla centrodestra moderato si sta distaccando per la sua incapacità di tenere insieme un partito moderato, e devo dire che poi ci sarebbero degli argomenti per stare un po' attenti, e ve ne cito due oggi, che riguardano la destra di governo di oggi, il primo è la questione dei vaccini, cioè oggi è molto chiaro, forse il giornale esagera, la Lega non si vaccina, però insomma il voto grillino, il leghista contro l'obbligo dei vaccini per andare a scuola, insomma forse qualcuno potrebbe contestarlo, non alla Burioni, alla Borioni, a quell'insopportabile medico che ha fatto di questa battaglia un libro per prendere qualche diritto d'autore, alla Saviano, per inderderci, ma insomma sulla ragionevolezza, che forse come dice un libro di Vittorio Ronchei, che ho recensito la settimana scorsa sul giornale, insomma lei diceva, parlava di una professoressa degli anni 70, diceva almeno i miei figli, almeno questi ragazzini ci siano grati per l'antipolio, perché alla nostra epoca quanti ce n'erano tra di loro, che invece erano sfregiati dalla poliomelite, mentre noi almeno questo gliel'abbiamo regalato, ciao a Stefano che vedo il incollegamento. Allora, l'altra cosa che è oggi sui giornali, presente almeno su due giornali, tra cui molto buono il pezzo di Claric sul Sole 24 Ore, è questa assurda storia del Presidente della Consob, Nava, che a me sta simpatico zero, ma l'idea che sia messo in discussione da interrogazioni parlamentari per l'aspettativa che ha dall'Unione Europea, beh, insomma, mi sembra una roba che è gravissima, è gravissima, così come è gravissima la violazione dei diritti di libertà e di parola, cioè se tu hai un diritto di parola non può essere compresso, dal mio punto di vista, diciamo liberista, come disse Robert Spencer in un libro bellissimo americano che si chiama Free Speech, lo recensito, ve lo trovate sul sito nicolaporro.it, compratevelo su Amazon o dovunque voi vogliate, in cui spiega il motivo per il quale Free Speech è a rischio negli Stati Uniti. Ma l'altra cosa molto grave è che un governo non si può permettere di togliere i vertici delle autorite indipendenti in maniera così. Non stiamo parlando di spoil system, che io considero legittimo, se tu vuoi mettere, insomma, nelle tue aziende di Stato quello che vuoi, fallo pure, anche in maniera brusca, anche la RAI, fallo pure, tutto sommato uno dice ma la RAI dovrebbe essere di garanzia, è comunque un'azienda controllata. Ma insomma, le aziende, le autorite di garanzia bisognerebbe avere un pochino più di rispetto, in questo caso su un Nava, come dice bene Clarice sul Sole 24 ore di oggi, oltre alle fake news, cioè oltre alle notizie false, ci sono i falsi problemi, come quello del Presidente della Consob e la sua aspettativa. Ultima cosa che ricorda oggi bene, vabbè, il Corriere della Sera apre sull'accordo sui tre, ai tre, sui conti pubblici, bravo, devono far posto a Minenna, chi è che lo scrive? Qualcuno bravissimo ricorda qual è il casino, cioè Minenna è un uomo del Movimento 5 Stelle che è stato anche a Roma con il Movimento 5 Stelle, qualcuno di voi, tra i miei lettori, tra i commensali ha capito bene il retroscena, cioè lì in realtà è uno spoil system fatto sull'autority per dare spazio a quest'uomo, manager che faceva parte, uomo della CGL, poi passato con il Movimento 5 Stelle e che è stato, ed è il grande, diciamo casinaro all'interno della Consob. Sull'economia pare che ci sia stato un accordo a tre tra Tria, Di Maio e Salvini sui conti pubblici e l'apertura del Corriere della Sera, nel frattempo vola lo spread non solo per motivi italiani, oggi vi segnalo un pezzo di Claudio Tito che avrebbe avuto un retroscena pazzesco sugli investitori stranieri che starebbero scappando dall'Italia e che, devo dire che qualche elemento di uscita, fuori uscita dall'Italia di Incapitali c'è innegabilmente, il giornale oggi dice ecco il primo Fudora che dopo il decreto di Maio ma non solo per il decreto di Maio se ne va via dall'Italia ma comunque ritornando a Claudio Tito fa una pagina intera pagina intera di Repubblica in cui ci dice di una misteriosa riunione fatta da Mary Lynch un ex Mary Lynch perché oggi non esiste più mi sembra che sia City Bank of America è stata assorbita la vecchia Mary Lynch in cui una serie di banchieri avrebbero incontrato Bagnai l'uomo no euro della Lega devo dire sceglietevi uno un po' più moderato per essere un po' rassicurati dall'Italia se prendete Magnai è chiaro che scappate a gambe elevate e questi signori si sarebbero molto più preoccupati di quello che pensavano della tenuta dell'Italia questo è il retroscena di Claudio Tito su Repubblica molto divertente oggi l'attacco ad avvenire e sapete che io avvenire lo amo come la sabbia nel letto e perché tutti quanti ricordano i giornali diciamo un po' più un po' meno fighettoni dal Libero al Giornale alla Verità ricordano soprattutto la Verità fa un pezzo intero in cui ricorda l'avvenire quando dice vergogniamoci per la storia di Daisy dice ma scusate quando poi si è scoperto che erano tre italiani di cui il figlio di un sindaco del PD e questo conta poco perché chi se ne frega continua a dire che il figlio è un sindaco del PD come se quello fosse un marchio di infamia per il padre o per il figlio non riesco a capire vabbè comunque tre italiani ma la cosa grave è che questi italiani avevano fatto questo lancio di uova nei confronti di chiunque non soltanto di una ragazza di colore ecco insomma è lo stesso retropensiero che si ha quando non si vuole dire che è un nigeriano ad aver provato uno stupro a Milano e la cosa grave è che aveva precedenti e che era un clandestino allora secondo voi questo tipo di ovuattamento nei confronti dei due milioni di lettori dei giornali fa e contiene i rigurgiti razzisti che pure ci sono in questo paese o è semplicemente una grandissima bolla di ipocrisia all'avvenire alla ordine dei giornalisti che non fa altro che rendere ancora più isterici quelli che sono vittime invece di questa difficile convivenza in alcune parti della nostra città punto di domanda se vi piace questa zuppa condividetela e vi ricordo quando pensate alla legge Mancino leggete free speech adesso vado a vedere bene sul mio sito internet se compare la mia recensione ma quello che conta più che la mia recensione la trovate sul sito nicolaporro.it e il libro di Spencer ciao grazie a tutti